È un passo sicuramente importante, fondamentale per costruire insieme nel concreto la città metropolitana. Un'idea bella, dalle potenzialità molto molto grandi, che stenta però a decollare perché nasce da una legge un po' traballante. Noi però ci crediamo, crediamo che una pianificazione di area vasta sia quella che serve per i nostri territori e quindi approveremo con convinzione il piano strategico, sperando che ci siano delle modifiche legislativi che aiutino a crescere la città metropolitana e soprattutto che il governo metta le risorse per far funzionare la città metropolitana.